Sì, è buttata da una parte Puoi provare? No Sì, adesso iniziamo con i giochi d'acqua Vado a prendermi uno sci, mi fai sciare, bella? Eh, Gian, quale mi prendo? No, no, no Forse è quello rosso Quello bianco scolorito Aspetta, guarda Avrà detto qualche cattiveria Non mi comprendo Ma dove è? Non mi comprendo Non mi comprendo La terzetta, amica, siamo tutti acciacattici Altro? No, così lo mettiamo agli api Prima di Deve rilasciare la dichiarazione scritta Per le responsabilità Sì Non ci assumiamo responsabilità Se si smonta Se si smonta Se si smonta È storica E' il trim Nero con le freccezze rosse Eh, solo lo dico io Buon appetito! Vai! Ale! Non troppo! 2? Progressivo, ok. Tanto lei ottiene l'equilibrio. Tanto a farti prendere dagli entusiasmi. 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 E vai che tonne così cazzute non c'è né in tutta la costa del sud. E... Progressivo. Metti in tiro. E poi vai. Progressivo. Ne andi. Vai, vai, ora! Vai! No, piano! Prendi questa e sta già andando. Come sta già andando? Deve cliccare niente. Prendi a farti. 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 Dai che proviamo un tiro Soft di Giorgio Stoppiamo un attimo e riprendiamo dopo Spornodivi Ho 10 anni, andati qua a Bottao E non hai un video? Ho invecchiato, ho cresciuto qua No, non mi hanno mai fatto un video amatoriale Poi con questi occhiali da sexy vivo, uff, troppo Sei troppo figo Ehi Ale, prendimi un po' di sagolino Ale Un po' di sagolino Ah, hai sbagliato Ehi, non manovra bene Eh, non manovra bene Ehi, non manovra bene Ehi, non manovra bene Ehi, non manovra bene Ehi, non è me lui Davai, davai Ehi, non manovra bene Ehi, non manovra bene Ehi, non manovra bene Sì, c'è l'esercitina, andiamo sui ricolleggiati a travergo, quando siamo a fuoco e tu mi dici se va bene, andiamo a aumentare, c'è l'esercitazione, ok, io chiediamo, davai, davai, davai! Grazie a tutti! Andiamo con me, hai bisogno di più pressione? No, andiamo bene, ho un pochettino più piano per l'equilibrio, non sono riuscita a metterlo. Hai appuntamenti per questa sera, ne abbiamo fino a domani mattina, questa è la mia liquidazione, è tutta offerta, mi è andata a fare un culo. No, andiamo! 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 C'è il grande ritorno di aria assunta! Sentiamo il peso della stagione Padre, è tutto ok, non ti preoccupi, sei felice! Com'era? Pronto? Gattoffa! Aspetta che c'è un po' di poca ombra! Facciamo... A orecchio! A orecchio! No, il cordino, il cimino! No, 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 no! Il cimo, il palo, il palo! Assistente di bordo, sempre tutto sotto controllo! In senso! Da dove? Da dove? Davai! 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 C'è, c'è, c'è! Davai! 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 M banderita! Guardano! Scrizione! Scrizione! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao Marta! Ciao Marco! Siamo entrati a 35 nodi in cortia come una volta. Allora ci sono entrati a 48 nodi, però adesso non c'è motore. Qual è la cortia che non la vedo? Deve essere questa. È questa! Siamo entrando? Siamo entrando dentro il gazebo, tutta la porta, ora lo scoppiamo. Pronti? Gatova? Gatova! Ale com'è va? Gatova, una chassera! Sì, che cosa è callato? Sì, che cosa è l'acinta? Sì, che cosa è lì? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.